buonasera migli buonasera migli una serata triste per la fiorentina perché questa sera finisce la nostra stagione ma bisogna fare i complimenti all'atalanta perché secondo me è giusto così nel senso che il campo ha dato un verdetto giusto l'atalanta ha meritato di più nel doppio confronto sicuramente è una squadra che ha giocato di più anche stasera ea noi è mancato proprio quello cioè che cosa è mancato alla fiorentina stasera eccetto i primi sette otto minuti fino fino un po al rigore dell'atalanta ma anche prima sono mancati due anni alla fiorentina stasera abbiamo portato a termine un percorso di due anni un anno e mezzo nel quale mai abbiamo costruito una squadra per fare del gioco mai abbiamo provato a costruire delle geometrie in campo a costruire una squadra che facesse del possesso mai abbiamo cercato sia in fase anche di 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 costruzione della squadra stessa che di lavoro tattico mai abbiamo avuto tra le mani una squadra capace di organizzare gioco e anche per quello che stasera avrei preferito ci fosse stato il vecchio allenatore in panchina perché stasera si porta a compimento quello che è il ciclo biennale da cui siamo reduci ve l'avevo detto questa mattina che andare a bergamo a giocare di contropiede sarebbe stato ingiusto e devastante sarebbe stato anche per certi versi ingiusto farcela diciamo che montella comprensibilmente non poteva fare altro perché a firenze da troppo poco perché troppo poca la sua capacità di incidere in due settimane che qui tre rispetto alla mole che è stata messa nella testa dei giocatori nei mesi precedenti l'unica cosa che potevi fare oggi per certi versi vista l'assenza di tempo era quella di andare a ricontinuare questo stilicidio del contropiede a bergamo ma come ho sempre detto il contropiede non è un gioco ma è una tattica che puoi usare qualche volta ma non puoi pensare di incentrare le tue stagioni sul gioco di contropiede chi specula perde è giusto che lo faccia io imputo al ciclo tecnico soprattutto questo cioè l'assenza in un anno e mezzo due di una qualsivoglia idea di gioco che questa sera hai pagato non solo hai pagato mai portato a compimento a fronte invece di una squadra che questa sera ha portato a compimento un ciclo tecnico fatto di gioco fatto di idee in campo fatto di intensità badate bene che la qualità tecnica delle due squadre non è così diversa nel senso che se tu prendi le due squadre non ce n'è una così più forte dell'altra anzi la differenza è che l'atalante in questo tempo ha messo tattica nelle gambe dei giocatori ha costruito del gioco ha fatto lievitare grazie a questo gioco grazie a questa organizzazione intensità il valore dei giocatori noi in tutto questo tempo non l'abbiamo fatto poi posso anche essere d'accordo sul fatto che nel mercato ci siano stati degli errori delle incompletezze mai abbiamo avuto quest'anno un regista e mai abbiamo dato fiducia all'unico regista che potevamo avere ripeto non si può pensare di risolvere tutto in due settimane questa sera ho visto male chiesa male veramente spaesato ho visto male vabbè la papera di 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 la font che è stato veramente un infortunio incommentabile poi ho visto male anche gerson non ho visto niente di entusiasmante male miraglias che veramente non non so che tipo di giocatore di valore aggiunto di a male anche benassi ho visto bene muriel che è un fuoriclasse ed è fino un peccato che che abbia dovuto giocare in questa situazione vabbè ho visto bene anche milenkovic che è un ottimo difensore adesso niente il nostro campionato è finito io spero che ci si renda conto del tempo che è stato perso in questi due questi in questi mesi insomma in questo tempo in cui mai abbiamo cercato di proporre del gioco vero e proprio mai abbiamo costruito una squadra capace di fare del gioco che poi è sempre stato il tratto distintivo della nostra fiorentina io spero che da qui alla fine del campionato montella valuti chi merita di rimanere per il suo gioco spero che si valuti che si ricominci a costruire già da quest'estate una squadra con una mentalità volta al gioco volta alla costruzione volta al bel gioco che questa deve essere la base perché chi specula e chi pensa di portare avanti le stagioni sul contropiede vive queste serate ed è giusto che le viva complimenti all'atalanta e noi la finiamo qui la nostra stagione